Ricordare la strage dell'Eisel per tenere accesi i riflettori su una tragedia annunciata e dimenticata troppo in fretta è l'obiettivo del libro del giornalista aretino Francesco Caremani. Nella cornice di Ostuni l'autore ha ricordato la vicenda umana e giudiziaria che ruota intorno alla strage consumatasi all'interno dello stadio di Bruxelles il 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 39 le vittime della barbarie degli Hooligans, tra cui 32 italiani. Nel suo libro Caremani ha ricordato la figura di Otello Laurentini, padre di una delle vittime e presidente dell'Associazione dei Familiari, capace di far condannare l'UEFA in sede giudiziaria al termine di una lunga battaglia legale. Otello Laurentini è stato un uomo di grande coraggio, di grande espressione umano e di grande dignità. Quello che ha fatto, cioè fondare l'Associazione dei Familiari delle Vittime Italiane, delle 32 vittime, citare l'UEFA direttamente nel processo e alla fine farla condannare, quindi dimostrare la sua corresponsabilità per gli eventi che organizzava con una sentenza storica, purtroppo anche questa, dimenticata un po' come l'Eisel, è stato qualcosa di letteralmente straordinario ed è per questo che ricordare l'Eisel non è solo ricordare quello che è successo, ma portare oggi anche l'eredità, che non è leggera ma è pesante, di Otello Laurentini. La presentazione è avvenuta nell'ambito dei martedì letterari organizzati a Ostuni dall'Associazione Angeli Senza Frontiere, un ciclo di eventi che durerà per tutta l'estate. Attraverso questi libri scoprire delle nuove realtà e quindi arricchire il proprio bagaglio culturale che specialmente i ragazzi hanno molto bisogno di questo, infatti noi abbiamo indetto questi martedì letterari con una punta di presunzione, vorremmo che ci fossero molti giovani ad ascoltare questi grandi autori che ci raccontano delle storie molto molto interessanti.